Ciao a tutti, grazie di essere qui con me oggi in questo nuovissimo Trattor Vlog del canale come si può intuire dalla presenza di una motosega qua sul banco oggi andremo a fare legna, più precisamente andremo ad abbattere una pianta allora, come avevo già detto in un Trattor Vlog, penso due o tre Trattor Vlog fa questa è una motosega 50 cm3 di cilindrata, 3 cavalli circa con catena, passo 325, sprango barra da 45 cm che sarà più che sufficiente per l'abbattimento che dobbiamo fare infatti andremo ad abbattere un pino da circa 60 cm al piede dove si allarga ma insomma il tronco alla fine è 45-50 cm questo pino purtroppo è morto di qualche virosi o comunque con un fulmine appunto dobbiamo abbatterlo perché è inutile che stia lì a marcire e dopo diventa pericoloso la motosega è qua sul banco perché ho appena finito di affilarla rigorosamente col tondino che secondo me è il miglior tipo di affilatura, se fatto bene ovviamente, se si sa fare e appunto ho fatto un po' di manutenzione, ho fatto il pieno e così via e ho verificato che fosse pronta per il lavoro direi di non perdere altro tempo e ci troviamo subito sulla pianta io vi ricordo in ultimo di leggere interamente la descrizione trovate un sacco di informazioni, i miei social trovate tutto trovate un sacco di risposte alle vostre domande per evitarvi commenti inutili adesso andiamo subito alla pianta a vederla ovviamente non parlerò molto perché la motosega fa rumore, il trattore fa rumore è un lavoro che ci vuole concentrazione comunque ragazzi perché vi ricordo di usare sempre tutti i dpi del caso i dispositivi di protezione individuale, di essere protetti, sicuri quando lavorate con queste macchine sono pericolose, bisogna prestare molta attenzione a quello che si fa quindi non parlerò molto però ci sarà da un bel po' da vedere insomma ci vediamo alla pianta 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.